Io ho conosciuto mio marito perché io andavo in banca, per cui partivo dall'Effe di Corsa fino a Gazzaniga a prendere il treno. Cercava di venire quando rientrava il treno da Bergamo con il cavallo, aveva un cavallo con un calesse. Mi ha seguito finché a dicembre, quando io il 13 dicembre compio gli anni, lui aveva già chiesto a mia mamma di venire in casa. Poi da allora siamo stati insieme. Ma forse ci siamo ammati tanto, non lo so. Questa è la cosa importante, come dico, per me lui era la cosa principale e penso che anche per lui, e l'ha dimostrato tantissimo in questi ultimi anni. Lui voleva solo me, insomma. Però lui aveva una canzone che me la cantava lui quando suonavano lì e dicevano, non specchiarti bambina, non specchiarti per me. Chi ti guarda indovina che ti specchi per me. Mio marito era un re diciamo, io ero una regina. Nella mia famiglia io vedo che tutti sono vicini a me, che mi piace e che sono felice perché mi sono tutti vicini. La soddisfazione per me con mio marito che lui ha creato delle cose favolose e che fortunatamente sono sempre andate bene. La soddisfazione forse anche più grande è stata che i figli hanno accettato di entrare in questo mondo di mio marito. Se sono insieme a fare questa cena saranno contenti di essere uniti che è quello che è molto bello perché per Natale è bellissima. Grazie a voi noi possiamo guardare con orgoglio al nostro passato e con maggior speranza al nostro a presto. Grazie a tutti.